Buonasera a Moni Ovadia, scrittore, attore, benvenuto. Ovadia, c'è qualcosa che abbiamo imparato da questi mesi di sofferenza? Secondo lei, questo coronavirus, come ha cambiato la società nella quale stiamo vivendo? Dipende dalle persone. Non si può fare un discorso generale sul paese. Io non credo che il paese sia cambiato. Io credo che le persone che hanno responsabilità e si pongono le vere questioni traggono degli ammaestramenti. Quelli che invece pensano solo alle beghe di uno contro l'altro, a sfruttare anche il coronavirus per ricavare qualche piccolo vantaggio, parlo di una classe politica, non tutti, ma in gran parte veramente allarmante. per il paese. E poi c'è una questione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva avvertito dopo la SARS e l'Ebola, preparatevi alle pandemie. Non si è preparato nessuno. Perché tanto quello che conta è vivere nell'ipertrofia del presente. Dove sono i progetti? In che società vogliamo vivere? Quali sono le priorità? Le priorità sono l'epi hour e la pericena o abbiamo delle priorità di vita, priorità importanti? E poi appunto progettare una società in cui la sanità pubblica sia l'elemento radiante della salute dell'intero paese. Quindi io credo che per cambiare ci si debba porre una grande questione. Che tipo di modello di sviluppo vogliamo avere? Perché ultimamente noi ci prendiamo sta roba che ci viene addosso. Non agiamo nei confronti di un progetto, siamo agiti. Arriva e andiamo nel panico, nella confusione. Invece bisogna prepararsi. Bill Gates, che non è uno come me che sono considerato un sovversivo, ma Bill Gates cinque anni fa aveva detto si spendono milioni di miliardi di dollari per le armi, saremo messi in ginocchio da una pandemia. È sulla rete, la possiamo vedere. Chi gli ha dato retta? Chi l'ha ascoltato? Cambiare significa prima di tutto fare un'analisi critica di se stessi e di quello che si sta facendo. Qui non c'è nessuno che è stato responsabile in questo paese. Lei ha sentito qualcuno dire abbiamo fatto dei grandi errori, non siamo stati preparati, parlo di quelli che comandano. Nessuno. Tutti sono a posto, tutti hanno fatto il meglio del meglio. Addirittura si è riesumato un criminale, lo dico nel senso tecnico, io non sono un forcaiolo, come Formigoni per chiedergli i suoi pareri nella nostra televisione di Stato su come si doveva gestire la pandemia. Un uomo che ha contribuito a distruggere la sanità sul territorio. E ora che noi diventiamo seri è quello che manca a questo paese, a mio parere. Ovada, bisogna mettere in campo la progettualità, soprattutto per il lavoro, soprattutto per i giovani che sono sempre lì a pagare il prezzo più alto. Io credo che lo abbiano riscontrato anche tutti loro. Io più sento parlare di giovani, meno si fa per loro. Cioè è un argomento che sollecita attenzione, commozione, però poi progetti reali non se ne vedono. E proprio io a soffermarmi su questa questione dell'ipertrofia del presente, tu ti occupi di giovani se progetti il futuro. Se non lo progetti, che te ne frega dei giovani? Nel presente i giovani, diciamo, vengono visti come minaccia a quella gerontocrazia che non si vuole mai schiodare da dove si trova. Quindi i giovani sono il futuro e si investe sui giovani nella misura in cui si progetta un futuro. Per esempio, facendo ritornare il lavoro questione centrale. non solo per segnalare la disoccupazione o per segnalare le problematiche che ci sono, ma per dire, noi abbiamo una Costituzione famosa che recita che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Ora, in questo momento, questo articolo andrebbe tolto perché è una menzogna. Non è vero che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, ma direi sulla speculazione, sulla corruzione, sul chiacchiericcio. Allora, perché quell'articolo sia inverato, bisogna fare del lavoro una questione centrale non solo in termini pratici, ma anche in termini etico-simbolici. Cioè, io ho imparato che il lavoro è ciò che permette di costruire la cultura democratica. Non è un'elemosina data con precariato. Quelli che sta usando Moni Ovadia, effettivamente la disoccupazione è da sempre una piaga del nostro paese. Una piccola cosa. Viene sempre in questo paese che ha un patrimonio culturale immenso. E ricordo che anche il patrimonio artistico monumentale non è venuto su da solo. L'hanno fatto gli esseri umani. Allora, l'investimento sulla cultura è una priorità. Un paese che è culturalmente ricco e forte facilmente attiva processi economici virtuosi. Perché la cultura non attiene solo se vai a vedere un museo. C'è una cultura economica, una cultura di governo. Noi abbiamo bisogno di investire sulla cultura. Non è un fatto di metterci il fiore all'occhiello. È un fatto di dare un orizzonte strutturale poderoso a questo paese che è già immensamente privilegiato. E a proposito di cultura e anche di integrazione, lei il 28 agosto ha inaugurato il SOUC Festival di Genova con uno spettacolo in prima nazionale dal titolo Canto di Passo. Sul palco, lei, da immigrato, così come i compagni con cui ha condiviso la scena, avete raccontato storie di frontiere e di confini. in che modo questo festival può rappresentare, essere un simbolo di un'integrazione possibile? Il SOUC Festival è un festival oramai con una bella storia che guarda naturalmente al Mediterraneo, alle sue culture, agli scambi, gli incontri e a quel mare Mediterraneo dove, appunto, erano disseminati i SOUC. e il mare Mediterraneo in greco si chiama Mesoio Thalassa cioè il mare di mezzo. Allora, il SOUC Festival propone un orizzonte, l'incontro, l'accoglienza. Non è, diciamo, una cosa scontata anche se suona bella, è una scelta che va fatta perché sono le due grandi scelte o il rispingimento e il nazionalismo sappiamo dove portano inevitabilmente alle guerre. Oppure l'accoglienza, il SOUC è un piccolo paradigma vi racconto l'accoglienza eravamo Carla Piero Lero di Genova io che sono un ebreo bulgaro nato cittadino italiano una straordinaria cantante siriana che mi ha ancora rinnovato il piacere di sentire che la lingua araba può essere la lingua più dolce dell'universo e un violoncellista siriano con lei gente che è scappata con le famiglie da quella situazione tragica noi dobbiamo fare una scelta di campo in Europa. perché